Benvenuti alla settimana politica di video backlight di Open Gate Italia, andiamo a guardare rapidamente le notizie di questa settimana. Sostegni, superbonus e tetra contante, governa dotter DL aiuti quarter. Un decreto tanto atteso che stanzia 9,1 miliardi di euro. Si è riunito dal Consiglio dei Ministeri nella serata di giovedì. Diverse sono le misure che vengono prorogate così come già introdotte dal governo Draghi per far fronte al caro energia che vanno dal credito ed imposta per le imprese a taglio IVA e accise sui carburanti fino al 31 dicembre. La possibilità di realizzare per le imprese le bollette. Altra misura, l'innazamento fino a 3.000 euro del tetto dell'esenzione fiscale dei benefici aziendali per i dipendenti, i famosi benefit. L'introduzione di misure per l'incremento della produzione di gas naturale e poi due misure molto divisive. Superbonus che viene rimodulato al 90% e l'innazamento del tetto dell'uso del contante che passerà da 1.000 euro a 5.000 euro. Altra notizia importante, si formano le commissioni parlamentari per dar modo poi a Parlamento di poter svolgere le proprie funzioni. Ne avevamo già parlato la settimana scorsa, Fratelli d'Italia ottene 7 presidenze, 4 alla Lega, 3 a Forza Italia. Per esempio, per quanto riguarda la Camera, i forzisti mangiavalori al bilancio pagano agli affari costituzionali e cappellacci agli affari sociali, leghisti Minardo alla difesa, Gusmeroli alle attività produttive, Carlone all'agricoltura e Giglio Vigna agli affari europei. A Fratelli d'Italia invece giustizia con maschio, finanze con osnato, cultura con mollicone, ambiente, rotelli, trasporti, dei da lavoro, rizzetto e affari esteri assegnati a sorpresa a Giulio Tremonti. Per quanto riguarda il Senato, 5 vanno a Fratelli d'Italia, Balbone agli affari costituzionali, Tarsi di Sant'Aga alle politiche europee, Calandrini alla bilancio, De Carlo all'industria e agricoltura e Zaffini agli affari sociali e lavoro. La Lega invece, come già anticipato precedentemente, Buongiorno alla giustizia, Marti alla cultura, Caravaglia alle finanze. Forza Italia, Crax agli affari esteri e difesa e Fazzone ad ambiente, lavori pubblici e innovazione tecnologica. Nuove deleghe per i ministri senza portafogli. Ad Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le riforme istituzionali, viene assegnata anche la delega alla semplificazione normativa. Passa invece a Fitto, ministro per gli affari europei, la politica di coesione e il piano nazionale di pesa e resilienza. La delega per il Sud, che era, se vi ricordate, precedentemente attribuita a Nello Musumesci, all'ex presidente della Sicilia, va la delega invece quella della protezione civile, che si aggiunge a quella sulle politiche del mare. Il Parlamento approva Nadef e scostamento di bilancio, molto importante la nota di aggiornamento al Def e lo scostamento di bilancio sono quei 9,1 miliardi necessari per permettere l'adozione del decreto aiuti quadri di cui abbiamo parlato in precedenza. Ultima notizia, la solita carelle sui migranti, durissimo sconto tra Italia e Francia sulla questione dei migranti. Alcune affermazioni dei politici fanno un po' discutere. Il ministro all'interno francese definisce il comportamento italiano disumano e minaccia ritorsioni, risponde il ministro Piantedosi, che respinge tutte le accuse, definendo incompensibile la reazione della Francia, ricordando come l'Italia stia affrontando da sola questo annoso tema. Chiude, replica della Presidente del Consiglio Meloni, che si dice molto colpita dalla reazione aggressiva del governo francese, incompensibile e ingiustificabile denuncia. Quando si parla di ritorsioni in una dinamica dell'Unione Europea qualcosa non funziona. Questa era l'ultima notizia, ci rivediamo prossima settimana.